Le attrezzature che presentiamo oggi si offrono all'utilizzatore che approccia la tecnologia laser ma che vuole un prodotto affidabile, qualitativo, semplice da utilizzare e con una buona scelta di formati a potenze, in modo da poter scegliere in base alle proprie esigenze. La gamma With Laser si compone di diverse aree di lavoro, da 50x70, 70x100 fino a 160x100 cm, con diverse soluzioni di potenza e tipologia laser. Infatti, oltre al classico utilizzo di laser in vetro per applicazioni generiche da 60 a 150 W, si possono anche montare sorgenti RF per gli utilizzatori che hanno come primaria esigenza la marcatura di materiali organici in alta qualità ad alte prestazioni. Le attrezzature che presentiamo oggi sono dotate di accorgimenti atti a facilitare le operazioni di lavoro come Pannello di controllo di ultima generazione Porte USB per trasferimento di file Regolatore d'aria compressa Pulsante di accensione per l'aspirazione o meno dell'aria Sistema LED status per verificare quando la macchina è in funzione Piano a lame e nido d'ape già di serie Sistema autofocus con asse Z motorizzato di 150 mm Indicatore di posizione LED rosso Cassetto di raccolta del materiale di scarto per facilitare la pulizia della macchina E molte altre finiture di qualità